Ah, ti troverò, senti nel mio cuore, mi aspetti tu. E-oh-e, e-oh-e, tu non lo sai in spalla, guarda una pappalla, ecco che qua è la felicità. Guarda una peste, trovi degli amici, ecco che qua è la felicità, certo che non è facile, e lo vuoi tanto facile. Ha debuttato con un concerto lo scorso 6 giugno, un coro, ma è un coro particolare, speciale, di piccoli aspiranti artisti, ma non è questo l'obiettivo, si chiama La Carovana. Un coro che è sempre in continuo movimento nell'esperienza corale e anche nell'esperienza educativa da parte mia e delle collaboratrici che hanno attivato questo coro. Ecco, le vogliamo ricordare? Sì, due maestre della scuola primaria di Amicis di Giuliano Vapaese, sono Teresa Adangelo e Paola Orsini. Un progetto educativo del centro di accollenza Dono di Maria e suppongo che i genitori vi stiano molto vicini? Sì, sicuramente, i genitori sono i primi promotori e entusiasti di questa esperienza perché anche loro hanno apprezzato nel concerto che abbiamo fatto, ma loro già anche negli anni passati hanno avuto altre esperienze, altri spettacoli, e sono contenti perché i bambini prima di tutto si divertono, stanno insieme, condividono un'esperienza e imparano ad ascoltarsi, a rispettarsi l'uno con l'altro, quindi sicuramente i genitori sono i nostri primi promotori. E' solo nel tuo cuore, viva la felicità, perché ci fa volare forse nel nostro paleno, o in un paccio per me, cerca la felicità, e solo nel tuo cuore, viva la felicità, perché ci fa volare forse nel sole che torce, o in un paccio per me. E' solo nel tuo cuore, viva la felicità, e solo nel tuo cuore, viva la felicità, Grazie. 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 Grazie.